Amici di MarciGames, bentornati su GOLF! Dopo il successo della mega mappa con Buddy, ovvero che c'era solo una buca da fare nei minori tiri possibili, si può dire, Buddy? E non lo so, penso di sì, era così. Nuova tipologia di mappa nello stesso modo, cioè nuova mappa nello stesso stile. Siamo pronti perché c'è anche loco. Sì, ma tu non hai capito? Hai visto dove era la buca? Ok, sì, sì. Dov'è? Hai visto dove era la buca? È tutta in alto. La vedi con la shad marrone? Seguila verso l'alto. Che bella! Ma scusa, ma se io tipo faccio così, guardate, no? No, ci ho già provato a capire se si può. Oddio! Oddio! Sapete una cosa? Io sono sporato sotto. Ma come si è sporato sotto? Dove sei? Sono sporato sotto le palle che ruotano di lento. Dai, ma che fortuna! Allora, io me la voglio cittare un pochettia, quindi secondo me... Ah, occhio che si citta tutto qua. Aspetta, come faccio a cittarlo un po'? No, Marci, no! Ti ho buttato... No, ti giuro, non l'hai fatto veramente. Eh, va bene, adesso iniziamo. Vabbè, io posso ripristinare il colpo. Ma tranquillo. Io vado verso di qua. Posso andare? No, raga, mi sa che ce l'ho fatta! Come hai fatto a farlo? Ma farei cosa, farei cosa! Raga, l'ho citato un po'... Ma dove sei? Guardate dove sono! Ma dove? Ma dove? Eh, aspetta, sono giù, dove c'è tipo il terreno che sembra quello di acacia, di savana. Ok, ah, ma ti vedo! Non sei tanto distante da me in realtà. Raga, l'ho tagliata tutta, non ci credo. Ma come cavolo hai fatto? Non lo so. Ma forse ce la faccio anche, mannaggia. Se la fai? Questa poco non ce l'ho fatta. All'aspetta, considerate che potete ripristinare, eh. Ok, io ci sono domarci. Io sono nudo quasi da te. Ok, no, devo farti un po' di tre. Che bello il fatto- Noooooooo! Quanti pochi sei? Lonscolan kinskinsk kinsk kinsk? Sono cinque. Io sono a nove. Come nove. Ok aspetta devo farlo un po' meglio Ma raga ma è difficilissimo È difficilissimo Giuro giuro raga è difficilissimo Non ce la faccia Latskolatskinsk Non si può baggare sta mappa praticamente Io l'ho baggata Sì ma devi avere tipo una fortuna Io non riesco a fare sto pezzo Cosa devi fare esattamente Ma è stupido proprio lui Sono dietro di voi comunque ragazzi Ce l'ho fatto Non è vero Non è vero ho fatto 3.1 Aspetta faccio un pochettino di meno Allora è palesemente un 3 E qualcosa Ma dove bandi? Così è Non sto arrivando non ti preoccupare Sono più vicino a quello che pensi Perché mi spingi? Ma se mi spingi tu? Ma se ho davanti a te Come ho già spingi Nei commenti Fermati un attimo Tutti fermi Fermo loco e fermo buddy Allora raga Allora ragazzi Siccome questa volta me la sono presa sul personale Sono andata a vedermi il video E vediamo in direttissima Adesso ve lo metterà davanti Ero io davanti Attenzione Attenzione Chi era davanti? Era Marci che stava Ero io davanti Ma se lo sto vedendo Stai fitto È la mia visuale Vabbè io vado No 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 Devi star fermo un attimo buddy Perché io adesso manderò lo screen E manderò lo screen su TS Così tu potrai vedere Realmente chi ha ragione E chi ha torto Ok? Sei pronto buddy? Sì no vabbè Ma io mi fido Cioè nel senso Non è che Non hai capito tu Ma chi mi ha buttato giù buddy? Guarda Guarda lo screen C'è loco Vabbè In che gruppo l'ha mandato? Vabbè Lasciamo perdere Ma andiamo avanti Che forse è meglio Che sto qui È proprio il sciem Purca poi Con la faccia Ce l'ho fatto finalmente E dai Sì Non cadere Non cadere Ploz Ploz Non cadere Ploz Oddio perché è difficilissimo Questo Dai loco Ma perché mi hai colpito? Ma tu mi hai colpito Ma che vuoi? Ma se Ho entirato te È appena arrivato È vero Stavo stato colpito io Ma che fuori Ma ci stavo stato colpito io Con calma Ok No ma te lo picchietto con il tuo spigolo Cos'è sto coso? Ok Perfetto E ma che dobbiamo fa' No Ah qui c'era il pezzo bugato No Ok ho capito Forse Forse si può fare Io penso di avercela fatta Forse si Si potrebbe fare Non ce l'ha fatta Eh Dio pensami dritto Io vado tipo tutto dritto di qua Calma Raga io l'ho fatto Fermati Come hai fatto? Raga io l'ho fatto Aspetta non cadere Non cadere pallina 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 Non cadere Pallina Ok non ce l'ha fatta la pallina Cosa bisogna fare qua Marci mi spieghi? C'è c'è un muro E qua loco Mamma mia ragazzi Mi sono buggato Troppo fa Vi vengo a vedere Ce l'hai fatta? Sbadins Allora Marci qua dobbiamo fare un triplo rimbalzo associato Secondo me devi andare a sinistra Lo vedi lì che c'è il rimbalzino A destra scusa Ah ok ho capito Eh in che schermali bisogna andare? Oddio Cavolo è difficilissimo Si può fare però mi sa Perché Marci sta cominciando a scegliere queste cose? Cioè perché gli piace farci del male? Ma ah raga ciao Bisogna farlo drittissimo Giovanni No ci ho quasi fatto L'ho mancato all'ultimo Sì ma bisogna farlo super dritto raga qua Ma no ma manco sempre il quarto È impossibile arrivarci al quarto Preso Il quarto Sì Tu Fatto Li ho presi tutti raga Però sono caduto alla fine Non dovete dare tipo la super fo Eh no dovete essere da dove sono io Ma gli sposti? Ho sbagliato all'ultimo Ok Ok io sono prendendo sempre al centro raga Quindi in teorina No Di un pelo raga Non ci credo Ok ce l'ho fatta Eh ma non ci arrivo No ci arrivi Emanetta manetta Ce la puoi fare Dove salto? Devi saltare sul piano rosso Devi saltare Per forza? Eh per forza Sì se no lo prendi Ok L'ho fatto No Non ci credo Sono caduto di un pelo Ma non funziona buddy Mi stai tollando No ci sono passato io È giusto è giusto Quello che dice buddy Ma sono fermo Ragazzi io sto bruciando le tappe Ehm si Tanto aspetta che faccio il centosettantesimo colpo Io ce l'ho fatta Sono dove c'è buddy mi sa Ora mi piazzo semplicemente un po' dritto Ok Devi fare il giro fatto bene Sì 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 Lo sto facendo Fatto benissimo Oddio non l'ho fatto molto bene Ah devi prendere una di quelle cose lì Sì ma io ho tirato a due Ignorantissime Ok ce l'ho fatta ce l'ho fatta Ce l'ho fatta E ora dove bisogna andare nel biscotto Eh già E poi ci sono delle scatole Sì l'ho fatto Ti faccio dire far così Dai ho preso una pala Ok Oddio ma è difficilissimo quello delle scatole Scusami Guardami dove sono io Sono lì in mezzo Fai te Eh quanti colpi siete? Ok Mamma mia Sì io sono a 124 176 177 Tu quando sei lonscolonskins Eh non voglio dirlo Mi rifiuto di dirlo Vabbè dopo non puoi essere più di me Cioè sinceramente Dai Sono a 66 Ma come sei a 66? Ma non è vero Sì perché lui aspetta anche quello che facciamo noi Quindi Sì esatto Ma che bugiardi Non stai nemmeno a provare Che bugiardi Stai nemmeno a provare Ok Ottimo A parte che è impossibile 66 goal Proprio impossibile No Sono 69 Ho sbagliato raga L'ho rifatto per sbagli È presa E non dove sono andato io Perché se no Ti ritrovi da tutt'altra parte Tipo Così da fare Sono arrivato Ciao Vabbè No non devi andare dritto Ciao Vabbè Perché? Perché non ti porta da parti utili Ok Vai 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 loco Ah perché? Cosa sta succedendo? Mamma mia Lonscolonskins Che dice una cosa giusta Grazie altrettanto Ciao ciao Dai Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Adesso cosa si deve fare qua ragazzi? Io non capisco nulla È impossibile Ottio Secondo me non dobbiamo andare nel buco Che ci porta indietro Il buco porta indietro Sì Esatto Non prendiamo il buco Vabbè ti levi Non posso andare Che penso di aver fatto giusto raga Sono tipo al centro Quanti hai fatto? Non ho la più pallida idea Lonscolonskins Ma hai detto dobbiamo andare Ma che hai fatto? Dobbiamo andare nel rosso raga Dobbiamo trovare quello giusto Come? È quello giusto da lì a destra Siccome dobbiamo salire sempre Per forza Raga adesso due Dal centro E tu Raga ce la faccio giuro La puoi fare Marchi dai Su Che ce la faci Prego Mamma mia Nooo E qui Eh non lo so Io No ok ci sono Ci sono Eh tosta qua Qua bisogna far tipo uno e mezzo Neanche Fermati prima Ok Ok Bisogna far pienissimo qua Ma va Io comunque c'ho solamente 271 colpi Io 204 Ah che dire Bravo Bravo Lonscolonskins Bravissimo C'è Baldi che mi spinge Con quei palloncini Ma Loco non ha capito Che è il primo che arriva comunque Ma non è il primo che arriva Ma sì Loco Che se frega È più bello Ah adesso sto Perché stai perdendo Eh Ma in realtà Siamo solo davanti a Buddy Quindi c'è No di fermi tutti Ok No fermati Fermati ti prego Dove porta questa buca Dove porta Voglio vedere dove mi porta Ok io ci sono raga Ok dove non doveva portarmi Ehm Uh Uh Tostissima Tostissima Ho diventato Marchi qui Tre tipo ho fatto lì Tre Come faccio ad andare Oh mio dio Ok buono Buddy Ah buono niente buono Buono Ho detto che è buono Difficilissimo Questo qua Sì frena 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 No raga Non prendete la buca Eh l'ho qua entrato Mi sa Ok io ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Sì ma se faccio quattro Se non faccio quattro non ci arrivo Qua fa un po' di fortuna Marchi a volte prendi il colpo giusto a volte no Ma io ce l'ho fatta ce l'ho fatta Eh ma Marchi qua devi andare indietro Perché devi dare il tiro e saltare Se vedi che se no vai dritto Io l'ho fatto Ma come hai fatto Nooo Nooo Ma scusa ma me non lo prende Fermatemi vi prego Eh ma sei scemo pure tu eh Ok Ok l'ho fatto Anch'io ci sono Mamma mia Batti dove sei non ti vedo Stavo provando a girare No bisogna entrare dentro là Come faccio entrare dentro lì Ma com'è che avete fatto quel coso lì Ok l'ho fatto Batti Batti lo so come Batti ci sono eh Mi date una mano Eh allora non ti aiutiamo più Oddio Batti Mamma mia Ok ho passato le pale Batti la vedo Nooo Ci sono i tizi che giocano a hockey Eh li vedo E Murillo com'è che si fa raga Sono i tizi di hockey Li ho superati Anch'io Nooo Non mi ha salvato Io sono ritornato indietro Fai te No il fantasmino Sei veramente un infamino Fantasmino No Marci Non mi posso più No dai È difficilissimo Maddi Ma vai più avanti di questi qua Che giocano a hockey Eh non ci riesco Ho già fatto qui Sono già Ero già arrivato qui davanti Ma non fai tipo tre qualcosa Non fare Qua E me l'ho fermato qua No ma vai avanti di uno Uno No va bene Tira due e mezzo Eh due e mezzo Vabbè dai Non è vero È fatto No no Un po' di più Di due e mezzo Un pochino Cioè ma Ancora Ancora Sono bloccato lì E neanche Neanche a dire Oh facciamo con i colpi Perché tanto sono Ne ho fatti più di voi Io ho solo usato 419 colpi Ma io sono a 420 In questo momento Marci Oh scusa Ah volevi Volevi invece Eh volevi Volevi invece No non puoi farlo Mi spiace Eh volevi Volevi invece Non puoi farlo Te la tiri giusta Da qui Marci Hai fatto Hai fatto Buttà Ok l'importante È la farla prima di Loco Vai 427 colpi Loco è a 302 Se vogliamo dirla Io sono arrivato terzo Totalmente Perché Buddy la vita per primo Loco per i colpi Io per niente Raga Ciao a tutti Ah no tu 491 Eh 491 scusami Allora hai vinto Tu per i colpi Ah no No ha vinto Loco in tutto Ciao